Hola, sono Maria Gresta, sono soprano italiano. Le interpreterà il ruolo di Medea. Lei è una donna molto forte, molto determinata, che non accetta di piegarsi niente a nessuno. È una donna molto fragile. È fragile perché ha vissuto l'abbandono, perché è stata tradita e perché non accetta quella che è la, diciamo, la sorte della donna di quei tempi. Ci sia una frase che appare nella tragedia di Euripide, che è molto significativa. Quando lei prova a spiegare la società, l'essere donna in quell'epoca, lei dice, l'uomo dice sempre che la donna resta a casa mentre lui combatte. E lei dice, non è vero, perché io vorrei combattere tre volte in prima linea, ma non partorire una volta. Per arrivare a creare un personaggio molto vicino ad Euripide, molto vicino al testo, quindi al libretto dell'opera, ma anche molto vicino a quella che è Maria. Ho cercato di ascoltare la musica, ho cercato di ascoltare i colori che Cherubini aveva dato, aveva messo nell'orchestra. E quindi è stato un lavoro, io dico a quattro, tragedia, libretto, musica e Maria. Ma la cosa più difficile per me in questo è stato riuscire a staccarmi dall'idea della madre che uccide i figli. Mi è servito molto lavorare sul palcoscenico con Paco perché attraverso quest'opera possiamo portare un messaggio.